Sindaco, come si sta azionando il Comune di Pescara per l'accoglienza dei profughi ucraini? Il Comune di Pescara ha il coordinamento dell'organizzazione dell'accoglienza e dell'assistenza dei profughi. Il Prefetto ha stabilito questo, noi di buon grado abbiamo accolto questo appello, stiamo svolgendo il compito già da qualche giorno, abbiamo creato nella stazione di Porta Nuova il centro di assistenza dove c'è la ASL che visita i profughi, fa loro i tamponi e i vaccini, poi c'è la Polizia che fa i controlli per l'immigrazione, ci siamo noi come Comune, la Polizia Municipale e tutti gli altri organi comunali che provvedono poi all'assistenza per l'assistemazione definitiva dei profughi o in case perché hanno contatti qui con ucraini perché qui abbiamo una folta rappresentanza di Ucraini, una folta comunità, oppure in albergo, già ne abbiamo sistemati quasi un centinaio in albergo, continueremo, abbiamo il coordinamento di tutta la provincia di Pescara, oramai siamo organizzati e rodati dopo l'esperienza della pandemia, la crisi sanitaria che abbiamo vissuto per due anni e adesso c'è questa crisi umanitaria ma cerchiamo di gestirla nel migliore dei modi con grande tranquillità, serenità e credo grande organizzazione. Sindaco, tante storie, c'è stata una che le è rimassa impressa? Ci sono tanti bambini che arrivano, si sentono abbandonati, sradicati dal loro territorio, cerchiamo di dare loro assistenza in ogni modo. Ieri in Comune abbiamo presentato una bellissima iniziativa che è quella dell'associazione Il Delfino Curi che ospiterà i bambini per far fare loro attività sportiva e io faccio l'appello a tutte le associazioni sportive pescaresi di accogliere questi ragazzi, questi bambini per far loro dimenticare almeno per qualche ora gli orrori della guerra, l'abbandono delle loro case, delle loro famiglie, dei loro amici, dei loro affetti perché poi la cosa che stiamo notando è che stanno arrivando donne, bambini e anziani perché gli uomini sono in guerra e non dobbiamo mai dimenticarlo.